I migranti potrebbero arrivare in aereo, i soccorsi nel Mediterraneo aumentano il numero delle partenze, le navi delle ONG avrebbero potuto evitare la tragedia di Crotone. Ma veramente? Ciao, io sono Simone Fontana. E io sono Anna Tognolo. E questo è veramente il podcast di Facta News. Il 26 febbraio 2023, un'imbarcazione con a bordo 180 persone è naufragata a circa 200 metri dalla costa Ionica, di fronte a Steccato di Cutro, una piccola frazione balneare a pochi chilometri da Crotone. È l'ennesima tragedia del mare, la più grave dal 2013, che al momento in cui registriamo ha provocato 68 morti accertate e decine di dispersi, molti dei quali rimasti ancora senza nome. Il Caicco, un peschereccio a motori in legno lungo appena 20 metri, era partito quattro giorni prima dalle coste di Smirne, in Turchia, e nell'ultimo giorno di navigazione aveva dovuto affrontare condizioni meteorologiche avverse. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, il barchino non era la prima scelta degli scafisti, ma è stato comunque messo in mare dopo l'avaria del natante che avrebbe dovuto originariamente portare i migranti in Italia. Attorno alle 4 del mattino, di domenica 26 febbraio, il peschereccio era comunque giunto nei paraggi della costa Calabra, quando ha urtato il fondale o uno scoglio, ribaltandosi, riversando in mare tutti i 180 passeggeri, per lo più di origine afghana e siriana, nazionalità che ottengono il diritto d'asilo nella quasi totalità dei casi. A dare l'allarme è stato un'ora più tardi un pescatore del luogo, ma l'esistenza di un peschereccio in quel tratto di mare era nota alle autorità almeno dalle 22 del giorno precedente. Sulla vicenda è attualmente in corso un dibattito incentrato sull'eventuale catena di responsabilità che ha portato al mancato soccorso dei migranti. Ma di questo parleremo tra poco. Come spesso succede in questi casi, sulla tragedia è iniziata a circolare della disinformazione. Molti utenti sui social si sono chiesti, a tratti indignati, perché queste persone non possano prendere un aereo e arrivare comodamente in Europa, ma scelgono invece di spendere cifre esorbitanti per pagare dei trafficanti e intraprendere dei viaggi lunghi e pericolosi via mare. Ne parliamo oggi con Lorenzo Pezzani, architetto e ricercatore, professore associato dell'Università di Bologna e co-direttore di Border Forensics, un'agenzia che utilizza metodi di analisi visiva e spaziale per indagare sulle pratiche di violenza che accadono ai confini tra gli stati. Il suo lavoro è stato usato come prova nell'ambito di procedimenti giuridici ed è stato pubblicato su riviste accademiche e su giornali. Ciao Lorenzo e grazie mille di essere con noi. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. I parenti di alcune vittime del naufragio hanno testimoniato nei giorni scorsi che il viaggio migratorio può costare fino a 30.000 euro e risulta quindi molto costoso e molto pericoloso per le persone che lo intraprendono. Perché quindi non è possibile aspettarsi che le persone che arrivano da Siria, Iraq, Afghanistan, Pakistan, ma anche da molti paesi africani raggiungano l'Europa comodamente su un aereo? Ma questa è una domanda che circola da molto tempo. Io stesso quando mi trovo a parlare magari nelle scuole o anche a lezioni, in università, insomma, la chiedo agli studenti e il fatto che rimanga una domanda a cui in realtà molti non sanno dare risposta lo trovo un indice abbastanza inquietante di come l'attuale regime delle frontiere sia in realtà una realtà talmente radicata che è diventato quasi impossibile immaginarsi un'alternativa. Per parafrasare una celebre frase che circola da alcuni anni, è forse più facile immaginarsi la fine del mondo che la fine dei regimi e dei confini, nonostante questo appunto struttura, a questo regime dei confini e non esista poi in questa forma da così tanti anni. Ma tornando alla tua domanda, perché non vengono in aereo? Beh, molto semplicemente perché per un cittadino del sud del mondo, diciamo, non esistono spesso delle vie legali per viaggiare, perché nel mondo in cui viviamo purtroppo la possibilità di spostarsi è un privilegio che dipende innanzitutto dalla nazionalità e quindi dal passaporto che uno possiede, ci sono tanti lavori che, questo Passport Index, che hanno dimostrato come appunto passaporti di stati diversi diano più o meno accesso alla mobilità internazionale con appunto chiaramente gli stati del mondo del nord globale, occidentali e euroatlantici, diciamo, a farla da padrone con l'accesso libero insomma dei loro cittadini a gran parte del mondo e invece insomma gli stati appunto del sud del mondo dove i cui cittadini non possono, non hanno il diritto di viaggiare, di accedere ad altri stati. Poi è una questione anche che si intreccia con questioni di razza, di classe e di genere, ma di fatto insomma un cittadino di nuovo del sud del mondo il confine lo incontra quando per esempio inizia o accede a un'ambasciata per chiedere un visto e questo visto molto spesso gli viene negato e quando un rifugiato cerca di chiedere asilo ma l'unico modo che ha per farlo è cercare di arrivare inizialmente illegalmente in uno stato appunto del nord del mondo perché non ha altre vie di accesso e quindi appunto la risposta è abbastanza semplice in questo senso. La cosa appunto drammatica dal mio punto di vista è che questa condizione che in molti ormai definiscono di apartheid globale è stata interiorizzata a tal punto che ormai ci risulta quasi impossibile metterla in discussione. Un'altra delle sensazioni che si è diffusa soprattutto in alcuni talk show televisivi è invece lo sdegno per il fatto che l'imbarcazione che proveniva dalla Turchia non si sia fermata in Grecia essendo la prima costa più vicina appunto alla Turchia che era il paese di partenza ma abbia proseguito fino in Italia. Ci sono delle ragioni sappiamo molto pratiche su questo punto potresti spiegarci quali sono? Questa rotta fra virgolette appunto dalla Turchia che cerca di arrivare in Italia e cerca di aggirare quello che di fatto è un regime carcerario per chi appunto arriva sulle isole greche dell'Egeo che negli ultimi anni ha portato anche a tante tragedie e a tante situazioni così di inumanità conclamata come ricordo in particolare il campo di Moria che si trova sull'isola di Lesbos che appunto a poche miglia dalle coste della Turchia dove migliaia e migliaia di migranti sono stati in realtà richiusi per mesi e mesi con in condizioni orribili insomma in questo campo che continuava poi a bruciare che alla fine insomma è stato raso al suolo da un incendio. Quindi diciamo per evitare tutte queste condizioni inumane alcuni quelli che hanno la possibilità perché di solito appunto si tratta di passeggeri che hanno più disponibilità economica perché è un viaggio che che costa tantissimo e che come dicevamo prima costa decine se non a volte centinaia volte di migliaia di euro in più di un viaggio aereo e chi può appunto e cerca di invece arrivare sulle coste italiane che sono più più grandi e diciamo dove magari è più facile arrivare senza essere intercettati e quindi poi da lì insomma proseguire il viaggio attraverso l'Europa. Sempre analizzando le notizie fuorvianti che sono state diffuse su questo tema ci soffermiamo su quanto è stato riportato da alcune testate giornalistiche nei giorni scorsi. Sulla prima pagina di alcuni giornali infatti è stato citato un rapporto dei servizi segreti che parla di una sorta di aumento del soccorso in mare effettuato dalle navi ONG collegandolo all'aumento delle partenze. Sappiamo qualcosa riguardo questo presunto collegamento che in gergo viene definito pull factor cioè fattore di attrazione. Ma allora questo argomento diciamo del pull factor è un'altra storia che circola da ormai molto tempo. Io mi occupo di queste questioni da più di dieci anni quindi diciamo su certe cose ormai purtroppo ho un senso con tristezza diciamo di déjà vu molto forte e mi fanno sorridere un po' questa idea che ci siano queste nuove rivelazioni dei servizi che svelano cose nuove quando in realtà appunto questa cosa del pull factor circola ormai da vari anni. Nel mio lavoro io l'ho incontrata, l'abbiamo già analizzata almeno in un paio di occasioni, inizialmente nel 2014-2015 perché era stato uno degli argomenti principali ad essere usato contro Mare Nostrum al tempo l'operazione di ricerca e di soccorso che era stata messa in campo dal governo italiano che appunto era stata accusata poi dall'opposizione in Italia ma anche da altri stati europei di appunto costituire un fattore di attrazione che attirava insomma l'arrivo dei migranti addirittura mettendoli in pericolo perché appunto li incoraggiava a questi viaggi pericolosi. È un argomento che circola poi in maniera molto diffusa e da almeno la fine del 2016-2017 e quando si è sviluppata una campagna di narrazione tossica contro le NG appunto che operano soccorsi nel Mediterraneo. In tutti quei casi in realtà guardando ai dati degli arrivi, delle morti in mare e dei respingimenti che avvenivano verso la Libia appariva chiarissimo che i fattori che determinano la decisione di partire o no siano moltissimi e che ci siano dei fattori molto più importanti che vengono osservati dai migranti quando possono oppure insomma dai cosiddetti scafisti e organizzatori insomma diciamo dei viaggi e che hanno a che fare per esempio con le condizioni meteomarine, che hanno a che fare molto con le condizioni nei paesi di partenza, quando in Libia ormai per esempio la guerra civile negli ultimi anni arrivava insomma a livelli di scontro armato e nei centri abitati eccetera c'era chiaramente un aumento delle partenze di tante persone che appunto semplicemente non potevano rimanere in quei posti, a che fare con la situazione interna della Siria, dell'Afghanistan, di tanti paesi quindi ci sono tutta una serie di push factor diciamo se vogliamo usare questa terminologia che insomma secondo me è anche abbastanza problematica ma insomma ci sono tutta una serie anche di fattori che spingono la persona a partire e che hanno in realtà un'influenza molto più importante sulla questione rispetto appunto alla presenza dell'ONG e la cosa che la dimostra in maniera sicuramente più chiara è il fatto che anche in una situazione in cui l'ONG in realtà negli ultimi anni sono state ostacolate tantissimo e quindi sono state in realtà poco presenti all'interno nonostante insomma grandi sforzi poco presenti all'interno del Mediterraneo centrale e i migranti hanno continuato a partire in giorni, in settimane, in mesi in cui non c'erano ONG in operazione nel Mediterraneo centrale tante migliaia di persone hanno continuato ad arrivare hanno continuato ad arrivare in maniera autonoma insomma quindi sicuramente queste sono cose che sono state così contestate in maniera molto chiara e molto evidente da ricerche puntuali con dati da parte nostra ma anche da parte di tanti altri Matteo Villa per esempio è un ricercatore che continua ad analizzare questi dati che anche lui ha mostrato insomma in maniera non equivoca come si tratta in realtà di un grande abbaglio di una cosa non vera. Grazie Lorenzo per lo sguardo preciso che ci stai fornendo sul tema. Sull'argomento delle navi ONG come pull factor consigliamo ai nostri ascoltatori la lettura di un articolo scritto dai nostri colleghi di Pagella Politica che potete trovare nella descrizione del podcast. Restiamo ancora sulle navi ONG. Il 23 febbraio del 2023 è stato approvato definitivamente dal nostro governo il disegno di legge che delinea le disposizioni in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nei soccorsi in mare che pone le organizzazioni non governative in un clima di incertezza riguardo all'effettiva liceità del proprio lavoro. Ricordiamo ad esempio che come conseguenza delle restrizioni il 23 febbraio di quest'anno una nave di medici senza frontiere ha ricevuto dalla capitaneria di porto di Ancona una multa di 10.000 euro e un fermo amministrativo di 20 giorni cioè un blocco delle sue attività per aver violato il controverso e contestato codice di condotta introdotto dal governo. Su questo argomento Roberto Saviano ha riportato in un tweet che se non fosse per le leggi approvate dal governo i mezzi delle organizzazioni non governative avrebbero potuto salvare le persone migranti che sono morte nel naufragio. Ma io Lorenzo ti chiedo è davvero così? Le ONG potevano salvare vite in quel tratto di mare e in assenza delle organizzazioni umanitarie a chi è affidata questa responsabilità? Allora su questa questione si sono espresse subito appunto anche i rappresentanti del governo che si sono affrettati a dichiarare che in realtà le ONG non operano in quel tratto di mare e quindi i due fatti diciamo la campagna contro le ONG e il naufragio non sono connessi. Cosa che in realtà è un po' in contraddizione con la loro stessa ossessione nel senso che se è vero che se fosse vero che le ONG sono così irrilevanti non si capisce perché ci sia un tale spreco di energie e di risorse pubbliche per cercare di bloccarle. Comunque tornando alla questione è vero che le ONG hanno per lo più negli ultimi anni operato nel Mediterraneo centrale quindi a largo delle coste della Tunisia e delle Libia ma è anche vero che senza appunto la narrazione tossica di cui parlavamo prima e la vera propria campagna giuridica politica e mediatica diciamo contro le ONG è probabile se non quantomeno certamente possibile che ci fossero navi anche in altre parti del Mediterraneo centrale in alcuni periodi insomma ci sono state più di dieci quasi venti navi che operavano a navi non governamentali che operavano insomma nel Mediterraneo centrale e spesso insomma queste organizzazioni sono anche molto attente a capire dove arrivano da dove sono appunto questi questi sbarghi o gli attentativi di attraversamento quindi è sicuramente possibile che in condizioni diciamo senza la repressione ci sarebbero potute essere delle ONG che intervenivano in quel in quell'ambito è una cosa che per esempio è stata anche ricordata dai membri dell'equipaggio della Juventa una delle prime navi anzi la prima nave ad essere stata sequestrata dall'autorità ormai nel 2017 era era il periodo di Marco Minniti come ministro degli interni che ha davvero insomma dato iniziato insomma questa campagna appunto contro le ONG fa specie appunto vedere la Juventa che ormai marcisce di fatto da da tanti anni nel porto di Trapani sequestrata e quindi impossibilitata ad operare a salvare vite nel Mediterraneo mentre appunto c'è una mancanza cronica di mezzi di soccorso nel Mediterraneo al contempo dobbiamo ricordarci comunque che per ritornare alla questione dell'inizio il problema vero è che nessuno dovrebbe essere messo nelle condizioni di dover intraprendere un viaggio in quel tipo di condizioni e la risposta a questo chiaramente non è quello che ha detto il ministro dell'interno o la presidente del consiglio che vanno bloccate le partenze ma semplicemente vanno offerte delle vie legali appunto come si diceva prima di accesso e vanno fatte delle decisioni politiche che mettano fine a questa divisione del mondo appunto in questa apartheid di fatto e sull'altra parte della questione quello che dicevi a chi sono affidate e queste questi soccorsi in realtà di fatto appunto in assenza dell'NG a nessuno e questo è il problema di fondo il problema di fondo è che il sistema anche di sorveglianza del Mediterraneo centrale che esiste e che è in larga parte in questo momento affidato agli aerei di Frontex questo sistema è un sistema che concepisce la propria funzione al proprio ruolo come sistema di polizia e di sorveglianza diciamo poliziesca no quindi l'interesse e il come dire la 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 ragione e il loro modus operandi insomma riflette questo imperativo di appunto intercettare bloccare diciamo gli arrivi e identificare insomma le persone che arrivano e assicurare alla giustizia i presiunti appunto scafisti eccetera eccetera ma è una logica molto diversa da quella della ricerca e del soccorso che procede con mezzi diversi che opera in mare con con mezzi diversi e che opera appunto il mare e che ci sta in mare con con navi e con imbarcazioni cosa che l'Unione Europea e l'Italia anche di conseguenza insomma ha abbandonato ormai da tanti anni appunto la sorveglianza è assicurata e da questi aerei come abbiamo cercato di dimostrare in un lavoro che abbiamo pubblicato di recente in collaborazione con con Human Rights Watch e questi aerei nonostante Frontex dica o affermi che servono a salvare vite in realtà appunto abbiamo dimostrato nel vostro lavoro che questo non è vero che quegli aerei in realtà l'unica funzione che hanno è quella di favorire i respingimenti operati dalle forze libiche e che in realtà non salvano vita in mare e questo ultimo naufragio a largo di Crotone purtroppo ce l'ha mostrato in maniera inequivocabile e in maniera drammatica. Anche in questo caso aggiungeremo per i nostri ascoltatori nei link in descrizione il lavoro fatto da Lorenzo Pezzani e da Human Rights Watch sul tema. Io voglio ringraziare Lorenzo Pezzani per essere stato con noi in questa puntata del nostro podcast e per aver fatto chiarezza su questo tema. Grazie, grazie a voi. Quindi come abbiamo visto la responsabilità di ciò che accade nel Mediterraneo è principalmente di Frontex in questo momento ma in questo particolare caso c'è stato un rimpallo di responsabilità tra le istituzioni europee e italiane riguardo segnalazioni e soccorsi e le dinamiche della vicenda non sembrano essere ancora del tutto chiare. Sì, come anticipato nell'introduzione alcune inchieste giornalistiche hanno evidenziato delle discrepanze nelle ricostruzioni ufficiali sui soccorsi del 26 febbraio ed è verosimile pensare che non tutto in quell'occasione sia andato proprio secondo i piani. Al centro del dibattito c'è una segnalazione di Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia Costiera e di Frontiera, che circa sei ore prima del naufragio aveva avvistato il barchino e diffuso un avviso generico alle autorità italiane. Frontex, lo ricordiamo, l'abbiamo già detto, non ha compiti di soccorso ma la segnalazione è giunta all'attenzione della Guardia Costiera italiana senza che questa segnalazione generasse alcuna conseguenza. La stessa segnalazione è arrivata anche però sul tavolo della Guardia di Finanza che poche ore prima della tragedia ha impiato in mare una vedetta e un pattugliatore, entrambe rientrate con un nulla di fatto a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Ma perché la Guardia Costiera, che tra le sue regole di ingaggio annovera quella di intervenire a ogni segnalazione anche se non verificata, non ha messo in campo alcun tentativo di soccorso? Ecco, a rispondere è un comunicato del corpo militare stesso che fa riferimento a un avviso di Frontex che avrebbe indicato sì un'imbarcazione avvistata nello Ionio, però in buone condizioni di galleggiabilità e con a bordo una sola persona visibile. Questa è una versione molto diversa da quella di Frontex che infatti a stretto giro ha smentito la ricostruzione italiana, precisando di aver avvistato un'imbarcazione pesantemente sovraffollata che si dirigeva verso le coste italiane e di aver adeguatamente comunicato questa cosa alle autorità. Ecco, a cinque giorni dal naufragio le ragioni del mancato soccorso non sono ancora del tutto chiare, tanto che la procura di Crotone ha acquisito le comunicazioni tra le autorità per capire se ci siano stati ostacoli nelle operazioni di salvataggio. Quel che resta oggi è la triste conta delle vittime, vittime senza nome, che hanno perso la vita letteralmente a un passo dalla loro destinazione finale. FACTA News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Sceglia chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo, segnalare ai lettori quali sono le notizie vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social Twitter, Facebook e Instagram. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero Whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 18 29 843. Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione potete seguire il nostro canale Telegram. Il podcast di FACTA News è scritto da Simone Fontana e Anna Tognolo. È prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Anna Tognolo e questo era veramente il podcast di FACTA News. Grazie. Grazie a tutti.